Come in tante altre storie, i due protagonisti erano nati nello stesso quartiere della stessa città. Quel quartiere che da sempre è un porto di mare per tutti coraggiosi in cerca di fortuna, in cui le poche storie di successo diventano leggenda, mentre tutte le altre sono destinate all'oblio, se non peggio. Era l'inizio del secolo scorso, e anche se ancora forse non lo sapevano, il destino aveva già deciso che sarebbero stati rivali. Camminavano per gli stessi vicoli, si fermavano a parlare agli stessi incroci, e probabilmente bevevano caffè negli stessi bar. Chissà se a quei tempi, quando ancora non erano chiari i ruoli che si sarebbero svolti, forse, a tratti, si erano pure piaciuti. Probabilmente non come ci si può piacere tra amici, ma almeno con il mutuo rispetto che esiste tra chi sa di volere la stessa cosa che vuole l'altro. Un unico obiettivo, ma due diversi lati della barricata, o del campo, la cancia, come lo chiamano in Argentina. Era il 24 di agosto del 1908, quando Boca Junior e River Plate si affrontarono per la prima volta in un girone amatoriale, e ancora non sapevano che le loro squadre avrebbero scritto alcune tra le pagine più belle del football argentino, anzi, del mondo. Entrambe le squadre naccono nel quartiere della Boca, cioè la zona del porto di Buenos Aires, la bocca della città, alla foce del rio della Plata. Un quartiere relativamente povero, ai tempi popolato dalla classe lavoratrice e con un altissimo tasso di immigrati da tutto il mondo. Il River Plate, detto El Milionario, fu fondato il 25 di maggio del 1901, dalla fusione tra la squadra di origine genovese Santa Rosa e la Rosales, un'altra squadra locale che si era fatta alle ossa gareggiando con i marinai inglesi di passaggio per il porto. Secondo la leggenda, la squadra prese il nome dalle scritte sulle casse ammassate nel porto dai marinai inglesi. La scritta diceva, in inglese, River Plate, rio della Plata, il fiume dell'Argento. Quattro anni più tardi invece, il 3 aprile del 1905, fece la sua prima apparizione alla darsena sud del porto di Buenos Aires, un altro dei club destinati a scrivere la storia del calcio, il Boca Junior. Come abbiamo detto, la zona della Boca era caratterizzata da un altissimo tasso di popolazione immigrata, in particolare italiana. È difficile spiegare a cento anni di distanza quanto ai tempi il quartiere fosse influenzato dalla cultura italiana, ma basti dire che gli abitanti nel 1882 hissarono la bandiera genovese e proclamarono l'indipendenza dall'Argentina della Repubblica della Boca. Dei 38.000 abitanti della Boca, a fine XIX secolo, solo 2.500 avevano origini spagnole. La grande maggioranza degli altri era nata in Italia, ed infatti chiesero il supporto del re d'Italia Umberto I per tutelare la Repubblica della Boca. Il tentativo di indipendenza da parte degli italiani fallì, grazie anche all'intercessione del generale Julio Argentino Rocca, ma gli abitanti avevano già detto la loro e non avrebbero cambiato idea. La Boca era italiana, anche se non ufficialmente. Non stupisce quindi il fatto che il Boca Junior sia stato fondato da un gruppo di giovani italiani originari della provincia di Genova, che lasciarono un'impronta culturale talmente forte sul team che ancora oggi i tifosi si riconoscono nel nome di zenesi, i genovesi. Due anni dopo la fondazione della squadra, i cinque soci fondatori del Boca Junior decisero che la divisa originaria bianconera non era più adatta. Non era una scelta facile per una squadra il cui patrimonio era solo un pallone regalato da un marinaio inglese, quindi si lasciò che il caso, o forse il destino, facesse la sua parte. Giovanni Juan Bricchetto, che di mestiere azionava il faro del porto, propose di andare al molo ed aspettare che passasse la prima barca per avere ispirazione. Il caso volle che la prima nave a passare fu la Drotting Sofia, Regina Sofia, su cui sventolava un vessillo giallo e blu, la bandiera svedese. Era fatta. Blu e giallo sarebbero stati i colori ufficiali del Boca Junior. Nel frattempo, il River Plate non aveva mai smesso di macinare chilometri sul campo e il 27 dicembre del 1908, riuscì ad arrivare fino alla Primera Division, l'equivalente della nostra Serie A. Un successo enorme, per quella che fino a pochi anni prima era solo una piccola squadra di quartiere. I giallo-blu del Boca avrebbero seguito in Primera Division di lì a poco, nel 1913, grazie alla decisione della Federazione Calcistica Argentina, che decise di aumentare il numero delle partecipanti al campionato maggiore, da 6 a 15. Certo, sebbene fosse la prima divisione, si trattava ancora di un torneo amatoriale, ben diverso dai tornei a cui siamo abituati ora. Spesso, i giocatori avevano un secondo lavoro come scaricatori o manutentori delle enormi navi che arrivavano al porto di Buenos Aires. Complice il fatto che le due squadre militavano in leghe diverse, fino ad allora, tra le due era esistito un rapporto pacifico, mantenuto tale grazie al rispetto che si ha per gli amici che condividono le stesse battaglie quotidiane. Una sana rivalità agonistica, tra vicini di casa, senza sgarri o attacchi personali. Ma tutto era destinato a cambiare. Il Boca Junior era arrivato in primera divisione e la Boca, il quartiere del porto, cominciava ad essere troppo piccola per due squadre dai nomi così ingombranti. I due si sfidarono per la prima volta nella massima divisione argentina il 24 di agosto del 1913. Partita da cui il River Plate uscì vincitore 2 a 1. Il Boca avrebbe dovuto aspettare fino al 1918 per riuscire ad avere la meglio sul River, ma ormai era una sfida aperta. Quella partita del 1913 fu la prima di una lunga serie di derby tra Boca e River che anni più tardi la rivista World Soccer Magazine definì insuperabile da nessuna squadra al mondo, per passione ed intensità. Quel giorno del 1913 nacque il Superclassico, la sfida tra Boca Junior e River Plate, uno degli spettacoli sportivi più rinomati al mondo. A quei tempi però erano ancora partite quasi amatoriali, nel contesto di una primera divisione ancora molto piccola. Per assistere ad un vero e proprio scontro a livello professionale si sarebbe dovuto aspettare fino al 20 settembre del 1931, in cui i due si scontrarono nel primo turno del campionato argentino, nato dalla fusione delle prime divisioni di diverse leghe. Proprio in quell'anno il River Plate si era guadagnato il nomignolo di El Milionario per via dell'enorme prezzo pagato per l'acquisto del giocatore Carlos Peusel dello sportivo Buenos Aires. 10.000 pesos, una cifra folle per l'epoca. Erano passati 15 anni dal primo incontro dilettantistico, ma le tensioni tra i due erano già così alte che la partita dovette essere sospesa. Nel primo quarto d'ora di gioco, Carlos Peusel segnò il primo gol a favore del River, che sembrava essere in netta superiorità rispetto al Boca. Al ventisettesimo, l'arbitro assegnò un calcio di rigore per il Boca, scatenando le lamentele dei giocatori del River Plate. Con un rimpallo fortunato, i giocatori del Boca misero a segno il calcio di rigore. 1-1, palla al centro. Non finì lì però. Di lì a poco, i giocatori del River tornarono a lamentarsi per un presunto fallo dell'attaccante del Boca, e l'arbitro espulse tre giocatori del River e sospese la partita perché pare fosse stato aggredito fisicamente in campo. La rivalità tra vicini era stata esacerbata da alcune scelte della dirigenza del River Plate, che aveva portato il club a girovagare per diversi stadi, per poi trasferire definitivamente la società in un quartiere benestante di Buenos Aires, chiamato Palermo. Così, il River Plate aveva tradito la classe lavoratrice del quartiere della Boca, che gli aveva dato i Natali. Successivamente, nel 1938, addirittura decise di trasferirsi a Núñez, una zona molto ricca, situata esattamente dall'altra parte della città, nel celeberrimo Estadio Monumental, di fatto disconoscendo la sua origine operaia. Il Boca Junior, invece, decise di rimanere fedele alla Boca, e proprio lì, in quegli anni, fece costruire l'iconico Estadio Alberto Armando, passato alla storia come la bombonera. Nelle due squadre hanno militato tra i più grandi campioni della storia del calcio sudamericano, e non solo. Dalla parte del River, ad esempio, l'uruguayano Enzo Francescoli ed il grande Alfredo Di Stefano, mentre per il Boca, Martin Palermo, Daniele De Rossi, Carlos Tevez ed un tale Diego Armando Maradona. Diego ebbe a dire, ho giocato una Barcellona-Real Madrid, che è una partita importantissima, perché entrambe le squadre hanno città enormi alle spalle, ma Boca River è diverso, è come andare a letto con Giulia Roberts. Ad oggi, si sono giocati 251 Superclassico, ed il Boca detiene il maggior numero di vittorie, con 89 partite vinte contro le 83 del River Plate e 79 pareggi. Tuttavia, il River detiene il maggior numero di campionati argentini vinti, 36 contro i 34 del Boca, fomentando ancora di più la battaglia tra questi due giganti del football. Non condividono lo stesso quartiere da moltissimi anni, proprio quel quartiere che un tempo li unì, ma poi li divise per sempre. In tutto questo tempo, si sono scritte milioni di storie su questo duello, che prese forma nei primi anni del ventesimo secolo, e che è destinato a durare ancora per molto tempo. Non importano le vittorie o le sconfitte passate, dove giochino o chi ci sia in campo. Ogni capitolo di questa sfida storica risveglia sempre nuove emozioni. Vincere il Superclassico è diventato un obiettivo in sé, al netto del campionato argentino. È la partita dell'anno, che tutti vogliono giocare e nessuno vuole perdere. Il trionfo rappresenta la salvezza, la redenzione o l'incoronazione a campioni. Una vittoria si festeggia come si festeggerebbe un titolo, ed una caduta non si dimentica facilmente. Passano gli anni, le sfide, i trionfi dell'uno e le vittorie dell'altro, i pareggi, le partite entusiasmanti e quelle noiose, i fatti tristi e quelli felici. Ma la verità è una sola. Il Boca non può vivere senza il River, e il River non può vivere senza il Boca. Ma soprattutto, l'Argentina, e forse il mondo intero, non può fare a meno del Superclassico. Questo è Stefano Manganini, e quello che avete appena ascoltato è Storia d'Oltremare. Grazie a tutti.